Salve a tutti, in questo video vi mostrerò due dimostrazioni di un'uguaglianza a mio parere molto interessante, cioè la somma tra l'arco tangente di 1, l'arco tangente di 2 e l'arco tangente di 3 è uguale proprio a pi greco. Allora la premessa che facciamo è che l'arco tangente di un certo valore t è uguale per definizione all'angolo alfa la cui tangente è proprio uguale a t. Però attenzione l'angolo deve essere compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Quindi dire che l'arco tangente di t è uguale a un certo valore alfa è come dire equivalente al fatto che la tangente di questo valore alfa è uguale a t. Allora fatta questa premessa iniziamo con la dimostrazione se volete più ovvia che è quella che si basa su dei passaggi algebrici. Allora questa dimostrazione parte dalla considerazione che l'arco tangente di 1 è uno di quei valori abbastanza noti è esattamente pi greco quarti cioè 45 gradi. Allora trasportando pi greco quarti a derstra dell'uguaglianza questa uguaglianza diventa arco tangente di 2 più arco tangente di 3 uguale a tre quarti di pi greco. Quindi è questo che ci proponiamo di dimostrare per dimostrare appunto l'uguaglianza iniziale. Allora per la dimostrazione poniamo alfa uguale all'arco tangente di 2 e beta uguale all'arco tangente di 3. Chiaramente facendo questa posizione una cosa ovvia che possiamo subito dire che vorrà dire che la tangente di alfa è uguale a 2 e la tangente di beta sarà uguale a 3. e non solo ma che la somma di questi due angoli sarà sicuramente compresa tra 0 e pi greco. Questo perché? Perché ciascuno dei due sarà minore di pi greco mezzi e allo stesso tempo ciascuno dei due sarà maggiore di 0 perché abbiamo dei valori positivi. Allora detto questo sostanzialmente la dimostrazione si può fare facilmente utilizzando la formula di addizione per la tangente. Formula nota, una delle identità trigonometriche più diciamo note che ho riportato. Cioè la tangente della somma di alfa più beta è uguale alla tangente di alfa più la tangente di beta fratto 1 meno il prodotto tra tangente di alfa e tangente di beta. Allora per i valori che abbiamo in gioco basta sostituire al posto di tangente di alfa il valore 2 e al posto di tangente di beta il valore 3 e si ottiene questa espressione che vale meno 1. Quindi abbiamo dimostrato che la tangente della somma alfa più beta è uguale a meno 1. Allora questo valore, quest'angolo alfa più beta deve essere per forza uguale a tre quarti di pi greco perché tre quarti pi greco è l'unico angolo tra 0 e pi greco che ha come tangente uguale a meno 1. In gradi sarebbe 135 gradi. E questo sostanzialmente conclude la dimostrazione perché alfa più beta è proprio uguale per come abbiamo posto alfa e beta arco tangente di 2 più arco tangente di 3. Quindi come vedete è una dimostrazione molto semplice e intuitiva. La dimostrazione invece geometrica io ritengo sia ancora più interessante. Per geometrica intendo proprio quasi euclidea. Cioè possiamo partire da un quadrato, qui chiaramente c'è l'idea di base della dimostrazione, e su questo quadrato andiamo a dimostrare questa uguaglianza. In che modo? Beh, tracciamo le diagonali e poi prendendo il punto medio del lato AB, chiaramente un lato a caso, non fa differenza, tracciamo il segmento CE. Quindi si viene a formare questa figura. Allora, l'osservazione, la tesi che andremo a dimostrare è che questo triangolo EFB ha i suoi triangoli interni alfa, beta e gamma sono proprio uguali ciascuno a uno dei valori dell'arco tangente che ci interessano. In particolare, gamma è uguale all'arco tangente di uno, alfa è uguale all'arco tangente di due e beta è uguale all'arco tangente di tre. Chiaramente una volta dimostrato questo è ovvio che la somma di questi triangoli deve essere pi greco perché sappiamo che è una proprietà di tutti i triangoli, perlomeno nella geometria euclidea. Quindi la somma dei triangoli interni è uguale a 180 che corrisponde i radianti a pi greco. Allora, come si può dimostrare appunto in questo contesto geometrico? Allora, innanzitutto osserviamo che l'angolo gamma è quello formato con la diagonale e quindi sarà sicuramente di 45 gradi, quindi la sua tangente è uguale a uno e quindi questo vuol dire in altri termini che gamma è proprio l'arco tangente di uno. Quindi questa prima parte è facile. L'angolo alfa, per l'angolo alfa, dobbiamo considerare questo triangolo rettangolo C e B e applicare proprio la definizione di tangente nei triangoli rettangoli. Allora, nei triangoli rettangoli la tangente è proprio il rapporto tra i due cateti, in particolare tra il cateto opposto e il cateto adiacento all'angolo che stiamo considerando. Quindi il tangente di alfa sarà uguale a Cb fratto e B, Cb fratto e B. Ma sappiamo che B è la metà del lato, per ipotesi, e quindi questa tangente sarà uguale a 2. E quindi abbiamo dimostrato che alfa è uguale all'arco tangente di 2. Quindi dobbiamo adesso dimostrare che beta è uguale all'arco tangente di 3. Per fare questo facciamo in due passi. Intanto, prima di tutto, consideriamo il triangolo ACB e per questo triangolo, il punto F, osserviamo che è il baricentro di questo triangolo. Perché? Perché è il punto di intersezione tra due mediane, CE e OB. Chiaramente noi sappiamo che anche la terza mediana, per un teorema, andrà proprio a intersecare nello stesso punto. Quindi questo è il baricentro. Il baricentro è proprio il punto di intersezione delle mediane. Allora, per una proprietà nota del baricentro, il baricentro divide ciascuna mediana, in due parti che sono l'una e il doppio dell'altra. In particolare, FB sarà uguale al doppio di OF. E quindi l'intero segmento OB sarà uguale a 3 volte OF. Ma, dato che il segmento OB e il segmento C sono congruenti, ovviamente, allora possiamo scrivere che OC sarà uguale a 3 volte OF. A cosa ci serve questa relazione? Beh, ci serve quando andiamo a considerare un ultimo triangolo, che è il triangolo OFC, che è un triangolo rettangolo, perché ovviamente le diagonali di un quadrato sono perpendicolari. Allora, in questo triangolo rettangolo, di nuovo, se noi calcoliamo il rapporto tra OC e OF, otteniamo la tangente dell'angolo β'. La tangente di β' sarà appunto questo rapporto che, per quello che abbiamo visto, appena visto, è uguale proprio a 3. Ma, sappiamo che β' e β sono opposti al vertice, quindi la tangente di β' sarà nient'altro che la tangente di β e sarà uguale a 3. Quindi con questo abbiamo dimostrato che β è uguale all'arcotangente di 3 e questo conclude questa dimostrazione geometrica di questa interessante uguaglianza. e come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con una citazione, questa penso che sia abbastanza famosa, Euclidec, che appunto a chi è un re che chiede una scorciatoia per la geometria, risponde non c'è una via regale alla geometria. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, grazie.